Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo Oggi siamo tornati a parlare di video sorveglianza e parleremo di una telecamera veramente del tutto speciale Stiamo parlando di una telecamera di soli 25 euro e veramente, non sto scherzando, 25 euro dalla messa in onda di questo video Anche se molto probabilmente tornerà a circa 50 euro Ma l'ho acquistata su Amazon Prime per voi per testare la prima telecamera low cost Soprattutto DOM con autotracking, con infrarossi, con luce a led e non solo, con 4 antenne wifi Quindi oggi andremo a scoprire la Smart Wifi Camera Tutto questo subito dopo la sigla E quindi iniziamo questo episodio su questa telecamera di video sorveglianza Stiamo parlando di una telecamera di video sorveglianza Only One E quindi vuol dire che al suo interno ha tutto quello che serve per un kit di video sorveglianza professionale Partiamo innanzitutto dalla descrizione della nostra telecamera Perché ha un sensore da 5 megapixel che ci permette di avere un'immagine in 1920x1080 Ma lo state vedendo anche in questo momento perché la nostra telecamera Nel mentre stiamo registrando questo video Sta registrando anche lei una controcampo Che mostra un secondo la qualità video della nostra telecamera Ma non solo, la nostra telecamera nasce con due sistemi di illuminazione Quello normale, PIR E in questo caso si intende con sensore di movimento Che praticamente può essere una lampada che segue i nostri passi Grazie all'autotracking di conseguenza ci può mostrare al buio la via o dove stiamo andando a camminare E la seconda tipologia di illuminazione è quella all'infrarosso Ma andremo a scoprire più tardi le nostre funzionalità Che possono essere abilitate tutte dall'applicazione del nostro telefono Infatti stiamo parlando di una telecamera che nasce solo per l'utilizzo in cloud Ma non solo, può rilasciare anche per i kit di video sorveglianza Che utilizzano il sistema RTMP Una stringa di comando che possiamo andare a inserire all'interno del nostro kit di video sorveglianza NVR E può acquisire le immagini della nostra telecamera con un protocollo ONVIF Che sono gli standard oramai rilasciati sulla maggior parte delle telecamere di video sorveglianza E adesso andiamo a recensire al completo la nostra telecamera E andremo a scoprire al meglio come funziona l'applicazione in questione L'applicazione della nostra telecamera è la V380 Un'applicazione che si può trovare sul nostro Play Store o su Apple Store E il nostro sistema funziona veramente molto semplicemente Infatti siamo subito pronti a utilizzarla Come potrete notare però le immagini della telecamera acquisita sono in 640x480 In verità non è vero niente Perché basterà switchare da SD ad HD E riusciremo in automatico ad acquisire le immagini in alta definizione Questo però implica che sia in cloud sia in rete wifi Se non avremo una connessione veloce quindi attraverso una rete tipo ADSL a 20 MB di upload Oppure addirittura in fibra potremo avere dei lag oppure ricevere in ritardo le immagini Ma adesso andiamo a parlare un secondo su questa telecamera dove va a registrare Ci sono due metodi di registrazione Il primo è attraverso la memory card interna non inclusa nel pacchetto Che possiamo andare a mettere fino a 32 GB in TF card e quindi micro SD Oppure al costo di un centesimo comprare un host in cloud Per andare a registrare e a salvare tutte le registrazioni Infatti questo sistema ci viene proposto da parte del venditore Ma io sinceramente spendere un centesimo per un cloud che non so neanche dove vanno a finire le immagini Sinceramente proprio no Anche se quello che stiamo utilizzando in questo momento per ricevere le immagini sul proprio smartphone È un sistema in cloud Quindi comunque le immagini vengono mandate su un altro server Che poi viene rimandato al nostro smartphone Quindi non è una connessione peer to peer Ma è telecamera, cloud, cloud, telefono E poi appunto ci sarà un cloud riservato per l'archiviazione dei dati Ma ora adesso andiamo un secondo a vedere come funziona la nostra telecamera La telecamera nasce come sistema di videosorveglianza e di allarme Infatti abbiamo la possibilità di attivare l'allarm L'allarm è praticamente un sistema di effettivo di antifurto Che una volta che viene innescato la nostra telecamera Al primo movimento che va a vedere Noi praticamente quello che noi andiamo ad armare è la nostra telecamera Quindi all'interno una sua tra virgolette sirena E quindi una volta che noterà un movimento questa telecamera inizierà a suonare Adesso mi sposto completamente dalla telecamera perché si sta per allarmare Ok, perfetto Adesso una volta che si è allarmata in teoria dovrebbe scattare Ma ovviamente io ho disattivato completamente l'audio Questo perché in verità c'è un'impostazione da andare ad attivare E' l'impostazione dei suoni Questa telecamera parla Vi avvisa quando la connessione è attiva Quando si collega la rete wifi Però il problema è che durante la notte se questa telecamera si riavvia Sveglia il mondo Perché l'altoparlante interno oltre ad avere un microfono E quindi noi possiamo ascoltare l'audio della nostra telecamera in diretta Come potete sentire Esatto, poi succede questo Perché giustamente l'audio del microfono è bidirezionale E quindi cattura tutto l'audio circostante del nostro dispositivo Oltre a questo ci permette anche di poter parlare Quindi io posso attivare l'altoparlante della nostra telecamera E io posso parlare in questo modo E la telecamera riproduce il suono Come avrete notato non è immediato Però comunque funziona anche come interfono quasi in diretta Il nostro sistema inoltre rilascia anche la possibilità di scattare le foto E registrare Di attivare la modalità replay E quindi andare a vedere sia sul nostro cloud Che in questo momento come potete vedere Dobbiamo iscriverci al cloud disk Per andare a registrarci sopra Oppure attraverso la sd card Possiamo andare a recuperare tutti i filmati del nostro sistema E quindi avremo proprio completamente le immagini Di tutti i movimenti che ci sono stati Durante l'ora del giorno e della notte I segni rossi invece sono i probabili movimenti Che ci sono stati in quel momento in camera Non solo il nostro sistema Essendo una telecamera domotica Ha anche la possibilità di spostarsi in diretta E quindi noi riusciremo ad andare avanti e indietro E quindi vedere le immagini più o meno in real time E adesso andiamo a vedere le cose veramente interessanti di questa telecamera Che per il prezzo che hanno è incredibile La prima parte è la light mode Cioè praticamente i led che ha il suo interno Che sono veramente potenti E come potete notare anche dalla mia telecamera Illuminano praticamente a giorno la mia camera Infatti è veramente incredibile Che questa è la prima telecamera che vedo Con dei led inseriti che appunto illuminano E ci permettono di vedere nel buio Non solo Possiamo attivare anche la modalità auto La modalità auto semplicemente funziona Che ad ogni movimento Che rileva la telecamera Effettivamente La nostra telecamera Accenderà Le luci Le luci che c'ha davanti E quindi in conseguenza ci permetterà In buio totale Di accendere completamente I led in modo autonomo Adesso vi faccio vedere l'esempio Perfetto Ora le luci sono spente Come vedete è inserita la modalità infrarosso Io passo come davanti alla telecamera E la telecamera in automatico Pam Luce a giorno Quindi io posso essere benissimo Il ladro che vede sta luce Pensa che magari qualcuno E scappa E questo è veramente ottimo Anche su questo lato Ora andiamo a vedere Invece un'altra particolarità Di questa telecamera E cioè l'auto tracking Attiviamo ora la modalità tracking Cioè praticamente Attiva la parte di guardia Come potete notare La telecamera in questo momento Si sta muovendo da sola Ha rilevato che c'è un qualcuno Qui che sta passando Se io mi sposto La telecamera Comunque continuerà a seguirmi In ogni momento Io non sto neanche toccando il telefono Perché come vedete è qui Io mi sposterò E la telecamera Comunque continuerà a seguirmi Ovunque io vada E questo è veramente ottimo Perché ad esempio Se la dovete utilizzare Come segnapasso Per vedere dove state camminando Piuttosto che altro La nostra telecamera Inizierà a girare E a svoltare Come potete vedere Dove io Praticamente sto camminando E quindi Non riuscirei mai Dall'inquadratura Anche se vado di qui O comunque vado di qua Lei mi continuerà a seguire E questo È veramente ottimo Come sistema E quindi adesso io direi Di andare alle ultime Conclusioni E adesso Andiamo all'ultima parte Imaging setting Imaging setting Ci permette di decidere Noi se lanciare Gli infrarossi In maniera automatica Oppure manuale Oppure forzare Solo all'utilizzo Della telecamera A colori Quindi questo Sistema è veramente ottimo Anche in questo caso Anche perché Possiamo decidere Forzatamente Se mette la telecamera In bianco e nero Piuttosto che a colori Bene Adesso siamo Alle conclusioni Abbiamo praticamente Finito la recensione Dell'applicazione E adesso andiamo Alle conclusioni Riguardante Questa telecamera Stiamo parlando Prima Stavo dicendo Un secondo Della qualità È tutto Come potete vedere Ha una qualità Veramente enorme E il video Che va a registrare È in mp4 Quindi un formato Compatibile Con tutti i software Di montaggio Non solo Ha una compressione Veramente ottima Avete visto un po' I test video vari Che può fare Questa telecamera Quindi spero Che il video Vi sia piaciuto E ci vediamo A una prossima puntata Da Computer Museo Il link d'acquisto È in descrizione video Grazie ancora E alla prossima puntata Ciao